Sta per arrivare l'epifania che tutte le feste si porta via. Molti di noi sicuramente avranno goduto, non tutti, dipende un po' dal lavoro che si fa, comunque molti, compresi coloro che studiano, si saranno sicuramente goduti questo lungo periodo di vacanza, grossomodo due settimane di vacanza, giorno più, giorno meno. E al di là dei regali, al di là delle cibarie che generalmente questi momenti di festa ci offrono a livello di regali, ci fanno consumare a livello di cibo, mi auguro che la maggior parte delle persone abbiano avuto il tempo necessario per poter riflettere un po' su loro stessi, sul loro futuro, sul futuro dei loro cari. E mi auguro che in qualche modo siano riuscite a crearsi un sogno. Quindi il regalo più bello che deve rimanere in noi e che l'epifania non deve assolutamente portarci via, ma non ci porterà assolutamente via se noi lo vogliamo, è il sogno. Il sogno che deve trasformarsi in realtà. Perché in definitiva la cosa più difficile della nostra vita spesso è trasformare i nostri sogni in realtà. A volte non solo ci impegniamo per cercare di trasformare i nostri sogni in realtà, ma li dimentichiamo appena appaiono, a volte li chiudiamo in un cassetto. Perché riteniamo che non sia possibile realizzarli, perché siano non fattibili, per tanti motivi. Ci sono effettivamente dei sogni non fattibili o magari irrealizzabili. Però molti sono apparentemente irrealizzabili, diventano irrealizzabili perché noi non ci impegniamo a sufficienza, perché noi non mettiamo a frutto, non mettiamo in atto tutte le nostre capacità per far sì che essi si realizzano. Non riusciamo perché il mondo in cui viviamo, la società, la nostra cultura, non è sicuramente favorevole alla realizzazione dei nostri sogni. Non riusciamo a realizzarli se i nostri sogni non rispettano il criterio dell'armonia e dell'amore assoluto. In questo non riusciamo. Quando un sogno rispetta il criterio dell'armonia e dell'amore assoluto, diventa a tutti gli effetti realizzabile. L'amore assoluto è che si parla non solo di amare una persona, si parla di rispettare le leggi dell'amore cosmico, quindi le leggi dell'armonicità, dell'alchimia e dell'amore assoluto. Il nostro amore spesso non è assoluto, è dettato da regole, da paletti messi lì che se non si rispettano creano comunque un problema. La stessa parola fedeltà è un vincolo che abbiamo messi noi. Fedeli a cosa? Fedeli perché? Fedeli per chi? Fedeli per come? Perché questa fedeltà diventa sempre comunque più difficile da rispettare? E non lo è mai stata in definitiva rispettata fino in fondo. Una volta lo si poteva credere di più, oggi lo si può credere di meno che era rispettata fino in fondo. Cioè lo si può credere di più, scusate questo giro di parola un po' contorto, ma una volta si poteva far credere di più che era rispettata fino in fondo. Oggi si riesce di meno a far credere che è rispettata fino in fondo, perché oggi la gente è più aperta, perché parla di più, perché ci sono più mezzi di comunicazione, perché c'è più informazione. Ma è sempre stato un problema rispettare la fedeltà. Perché lo è sempre stato? Perché in definitiva questa fedeltà è un vincolo nostro, umano, non è alchemico, non è armonico. E allora se noi calcoliamo la fedeltà come vincolo che mettiamo noi, non riusciremo a rispettarla. Se noi costruiamo la nostra fedeltà su un principio alchemico, su un principio armonico, allora non si porrà nemmeno il problema di rispettarla, perché non ci sarà nulla da rispettare, perché tutto avverrà secondo natura, secondo alchimia. Allora il problema di base è uno sostanziale, definitivo, certo, che spesso noi non sappiamo scegliere, non sappiamo capire i nostri sogni, ma siamo influenzati da condizioni dettate, da paure che sono nella nostra interiorità, da certezze che vogliamo acquisire a tutti i costi. Mi è capitato di sentire una cosa molto triste tra le persone, sì, bisogna sposarsi, bisogna fare una famiglia, perché almeno quando sei vecchio avrai qualcosa. Ma il punto non è questo, perché se lo si fa con questa filosofia, con questa forma di pensiero, non si avrà senz'altro l'opportunità di vivere una vita felice. Noi dobbiamo capire perché il sogno è importante, perché tu nel sogno vuoi realizzare qualcosa che desideri, qualcosa di cui senti la necessità. E allora dobbiamo imparare proprio per questo ad amare i sogni, perché i sogni sono desideri. Lo si dice anche in una canzoncina di una fiaba tutto sommato banale, per bambini, c'è n'entra, i sogni sono desideri, ed è una cosa in quel caso buttata lì così, che sembra non avere né capo né coda, ma è così. Il sogno è desiderio. E noi dobbiamo capire bene cosa desideriamo, ma lo dobbiamo capire a livello alchemico, a livello armonico, non a livello di regole che ci vengono inculcate. Perché se non la regola dopo siamo, se non abbiamo capito tutto ciò a livello armonico e a livello alchemico, ma l'abbiamo capito a livello di regola, la regola la trasgrediremo appena ci sarà possibile, perché la nostra anima è comunque sempre alla ricerca dell'armonicità e dell'alchimia, conseguentemente ci porterà inevitabilmente a trasgredire quella regola. Allora le regole, le responsabilità che noi abbiamo nei confronti degli altri sono fondamentali, ma è altrettanto fondamentale il nostro capire il processo armonico e l'alchimia di cui noi abbiamo bisogno. E sono altrettanto fondamentali, perché se tradiamo l'armonicità e l'alchimia, tradiamo una parte di noi stessi e una parte di noi stessi sarà sempre alla ricerca dell'armonicità e dell'alchimia, perché è di quello che noi abbiamo bisogno per star bene, di quello che la nostra anima ha bisogno per vivere. E siccome la nostra anima vuole vivere sempre, ricercherà sempre questi particolari. Allora dall'epifania non dobbiamo farci portare via il sogno. Possiamo farci portare via tutto, ma non possiamo farci portare via il nostro sogno. Il sogno di amarci innanzitutto, per poter amare, il sogno di capirci per poter star bene con noi stessi e con gli altri, e anche con le regole. Il sogno di valorizzarci, di evolvere, perché l'evoluzione è l'unico modo per capirci sempre, per amarci sempre, per non invecchiare, per non farci sentire mai morti, ma sempre vivi, mai arrivati, ma sempre in corsa, sempre alla ricerca, alla ricerca della conoscenza, perché evoluzione vuol dire conoscenza. Io più evolvo, più mi conosco, più cresco. E allora l'epifania, tutte le feste le porta via, facciamo però che non porti via il sogno. Io credo che tutti noi, sostanzialmente, abbiamo tante diramazioni di sogno, diramazioni diverse, tanti sogni diversi, però nel grande albero del nostro subconscio, tutti noi abbiamo un sogno, di poter vivere bene questa vita, ma di poterla capire. E una volta capita, di poterne essere padroni. allora teniamo per noi questo sogno, che l'epifania non ci porta via, coltiviamolo, facciamolo crescere, facciamolo nostro, capiamoci, capiamo la vita, e amiamo la vita. Buona epifania a tutti.